Benvenuti da Scoop Esclusivo. Se sei appassionato di gossip e notizie, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche un video. Ogni like, commento e condivisione è un sostegno prezioso per me e per il lavoro che c'è dietro ogni singolo video. La tua partecipazione attiva è ciò che alimenta la crescita del canale e mi motiva a creare contenuti sempre migliori. L'influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni si sono uniti in matrimonio a Roma nella Basilica di Santa Maria in Araceli. La coppia, genitori del loro adorabile figlio Ciagio, ha celebrato il loro amore eterno di fronte a numerosi volti noti dello sport e non solo, insieme alle rispettive famiglie. Tuttavia, tra gli invitati, c'era un ospite speciale, il loro barboncino Toi, Twenti. Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato un evento magnifico, secondo quanto riferito dai numerosi ospiti presenti. Dopo la solenne cerimonia in chiesa, la festa è proseguita a Villa Miani, dove Chiara ha cambiato abito per tre volte, per ballare, tagliare la torta e scattare il maggior numero possibile di foto ricordo. Tra tutti gli scatti, il look di Twenti, il barboncino dell'influencer e del calciatore, non è passato inosservato. Il piccolo cane, che ha persino un profilo Instagram privato, ha conquistato il cuore di tutti con il suo mini smoking e la sua espressione leggermente confusa, posando accanto ai parenti degli sposi. La storia d'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni dura da due anni e il loro matrimonio è stato il coronamento di un sogno. Con il loro bambino Ciaggio e le persone più care al loro fianco, hanno scelto di unirsi in un giorno speciale, celebrando l'amore e l'inizio di una nuova avventura insieme. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie. Grazie. Grazie.